Questa è la fase detta colgarmente dell'ingugliaccatura, ovvero che passa uno strato sottile di manta che fa da cuscinetto con quella che sta già applicata a parere e con i contrassegni dietro abbiamo i punti di riferimento per vedere come applicarlo perché ovviamente noi il mosaico non lo vediamo, quindi noi centri e contrassegni servono, questi segni dietro servono per darci un pezzo in buiaccatura e applicazione. Va bene, buona!